Musica Benvenuti alla diciottesima lezione del corso di Matematica 3. Ci occuperemo in questa lezione di curve e integrali curvilinei in R2 e in R3. Ok, separando gli argomenti diremo che ci occuperemo di curve e loro lunghezza e di integrali curvilinei. Per quanto riguarda le curve e la loro lunghezza, diciamo subito che già in qualche modo abbiamo introdotto la nozione di curva di R alla M. Saremo un pochino più specifici ora. La curva è precisamente un'applicazione F definita sull'intervallo I della retta reale a valori in R alla M, quindi con M2 o 3 in generale, si dirà una curva continua se l'applicazione stessa è una funzione continua, se F è continua. Diremo che la curva è regolare se la funzione F è derivabile su I e se la norma o modulo del vettore derivata non è nulla in alcun punto di I. Questo vuol dire che se le componenti di F si chiamano X di T e Y di T, X primo al quadrato più Y primo al quadrato sarà sempre maggiore di zero per ogni T dell'intervallo I. D'ora in avanti, al posto di usare la lettera F, useremo la lettera gamma per indicare una curva, in qualche modo una convenzione. Dunque, gamma sarà una curva regolare se gamma di T è funzione continua da I in R alla M, con M uguale a 2 o 3, o eventualmente anche maggiore di 3, e la norma di gamma primo di T o il modulo di gamma primo di T, come l'abbiamo chiamato, è maggiore di zero per ogni T appartenente all'intervallo I. L'insieme gamma di I, cioè l'insieme immagine per mezzo della funzione gamma dell'intervallo I, si dice il sostegno della curva. Ed è questa, in un certo senso, la nozione puramente geometrica. Per noi invece la nozione di curva o cammino è una nozione non solo geometrica ma anche cinematica, cioè ci interessa la legge gamma di T con la quale il sostegno gamma di I grande viene percorso. Quindi teniamo conto della legge oraria con la quale si percorre un certo cammino. Due curve o cammini possono avere lo stesso sostegno ma essere diverse. Consideriamo il seguente esempio molto semplice, gamma 1 di T sia la curva coseno di T seno di T. Mettiamo il segno di trasposto per dire che x di T è uguale a coseno di T, y di T uguale a seno di T e che solitamente coseno di T e seno di T andrebbero scritti come vettore colonna, dove T appartiene all'intervallo I, 0, 2π. Andiamo a considerare sotto gamma 2 di T data da coseno di 2T seno di 2T, sempre trasposto, con T appartenente a I, dove ancora I è 0, 2π. Vedete, qua abbiamo coseno di T e qua sotto abbiamo coseno di T, seno di T e seno di 2T. Queste curve hanno lo stesso sostegno. Il sostegno, infatti, risulta essere la circonferenza di centro all'origine a raggio 1, ma la seconda curva, la gamma 2 di T, viene percorsa due volte quando T percorre l'intervallo 0, 2π. E quindi, sostanzialmente, percorre la stessa circonferenza a velocità doppia. Queste due curve noi le considereremo come curve diverse in generale. Diremo che una curva è chiusa se, detto I, l'intervallo AB risulta gamma di A uguale a gamma di B. E la diremo semplice se da T1 diverso da T2 segue gamma di T1 diverso da gamma di T2, a meno che T1 e T2 non siano uno A e l'altro B. Naturalmente, se gamma di A è diverso da gamma di B, diremo che la curva non è chiusa. Qualche volta useremo anche il nome di curva aperta. La restrizione di una curva a un sottointervallo J di I si dice un arco di curva. Due archi saranno detti consecutivi se sono esprimibili come due archi di curva definiti su intervalli come un estremo in comune. Ho detto se sono esprimibili perché talvolta non succederà che siano esprimibili. Talvolta gamma 1 e gamma 2 saranno espressi, saranno parametrate sullo stesso intervallo AB e allora si potrà fare qualche trucchetto in maniera che vengano parametrate, per esempio una su un intervallo AC e l'altra sull'intervallo consecutivo CB. In ogni caso gamma 1 e gamma 2, diciamo in generale questa è la definizione, sono consecutivi se gamma 1 è definito su un intervallo AC e gamma 2 su CB oppure si possono riparametrizzare, come ho detto, in modo che ciò accada e inoltre gamma 1 di C uguale a gamma 2 di C, cioè dove la curva 1 termina comincia la curva 2. Allora questi due archi, come vedete, l'arco gamma 1 è questo scritto fatto in azzurro, l'arco gamma 2 è quello fatto in giallo, disegnato in giallo, questi due archi saranno detti consecutivi. Una curva risulterà essere una curva generalmente regolare se esiste una decomposizione dell'intervallo I, un numero finito di punti T0 che è uguale a, il primo estremo dell'intervallo, minore di T1, minore di D con N uguale a B, ultimo estremo dell'intervallo, tale che la restrizione, questa decomposizione è tale, che la restrizione ad ogni sottointervallo della nostra curva, cioè a ogni sottointervallo da Tk-1 a Tk della nostra curva, è una curva regolare. Quindi vuol dire che angolarità, angolosità, diciamo, si potranno avere solamente negli estremi nel punto Tk-1 e nel punto Tk. Diremo che due curve, gamma 1 e gamma 2, definite sugli intervalli I1 e I2 rispettivamente, risultano essere curve equivalenti se troviamo un'applicazione H da I1 in I2, un'applicazione H da I1 in I2, tale che l'immagine per mezzo di H dell'intervallo I1 è uguale all'intervallo I2 e H è una curva di classe C1I, I1 diciamo, e inoltre H' di T è maggiore di zero, cioè H è una curva continua con derivata prima continua e la sua derivata prima è maggiore di zero. E inoltre gamma 1 risulta essere uguale a gamma 2 composto con H, ossia gamma 1 di T è uguale a gamma 2 di H di T, questo è il significato di quanto noi diciamo. Due curve equivalenti, si dice, che differiscono fra di loro per la rappresentazione parametrica. Ogni intervallo, sappiamo, ha esattamente due versi naturali d'orientazione, se abbiamo un intervallo che va da A a B, questo intervallo può andare, lo possiamo prendere orientato da A verso B oppure da B verso A. Indotta da questa orientazione dell'intervallo è anche l'orientazione di una curva. Se gamma di A a B in R alla M è una segnata curva, la curva meno gamma, che è definita sull'intervallo che va da meno B a meno A in R alla M, si dirà la curva orientata in senso opposto. E vorrei esplicitamente dirvi, mettere in evidenza, che cosa intendiamo per curva meno gamma. La curva meno gamma di T è la curva che è definita come gamma di meno T, la quale è evidentemente definita sull'intervallo che va da meno B a meno A, da meno B a meno A, e da valori in R alla M. Allora, perché è giusto chiamarla curva meno gamma? Supponiamo che sia data la curva gamma di T, che è definita da A a B a valori in R alla M, e per esempio è definita in questa maniera. Gamma di A è questo punto, dopodiché si prosegue e si va fino a gamma di B. Adesso noi chiamiamo meno gamma di A è uguale a, o meno gamma di B per esempio, è uguale a gamma di meno B. E allora meno gamma di B comincia qui. Poi quando T varia da meno B, quando T varia da A a B, meno T varierà da meno B a meno A, e i punti della curva vengono percorsi, lo stesso sostegno della curva gamma viene percorso però dalla curva meno gamma in senso opposto a quello precedente. Questa è dunque la nozione di curva opposta, avente verso opposto rispetto a una curva orientata. Fra i vari tipi di curve che noi avremo modo di considerare, in particolare considereremo i segmenti diretta che congiungono due punti X e Y in R alla M. E un segmento diretta, per esempio se M è uguale a 2, ha questa espressione, gamma di T uguale a prima componente X1 più Y1 meno X1 per T, seconda componente X2 più Y2 meno X2 per T, dove T appartiene all'intervallo, varia nell'intervallo 0, 1. Quando T uguale a 0 si trova X1, Y1 e X2 come vedete immediatamente, quando T uguale a 1 trovate X1 più Y1 meno X1, cioè Y1 come prima componente, e X2 più Y2 meno X2 per 1 e quindi Y2 come seconda componente. Quindi il segmento, nel variare di T tra 0 e 1, va dal punto di coordinata X1, Y1, quindi quello che abbiamo indicato punto X, al punto di coordinata Y1, Y2, quello che abbiamo indicato con punto Y. Veniamo ora a definire questo importante concetto, che ovviamente a tutti interessa e chiaramente ha anche applicazioni pratiche, questo concetto, è precisamente quello di lunghezza di una curva. Supponiamo data un'applicazione, quindi gamma da A a B a valori in R alla M, quindi supponiamo data una curva. E consideriamo una decomposizione delta del nostro intervallo a B, delta fatta dai punti T0 uguale a, minore di T1, minore di T con N uguale a B. Consideriamo la poligonale P data dall'unione dei segmenti diretta che congiungono i punti successivi, corrispondenti ai punti consecutivi della decomposizione, cioè i punti che congiungono, i segmenti diretta che congiungono il punto gamma di T0, che è il gamma di A, con il punto gamma di T1, con il punto gamma di T1, il punto gamma di T1 col punto gamma di T2, il punto gamma di TN-1 con il punto gamma di TN che è uguale a B. E se permettete vi faccio vedere, poi avremo anche un disegnino fatto molto meglio, ma tanto per capire che cosa intendiamo per poligonale, vi faccio un piccolissimo disegno. Allora, supponiamo che questo sia il punto gamma di A, poi abbiamo il punto gamma corrispondente al valore T1, gamma di A corrisponde a gamma di T0, poi abbiamo un altro punto corrispondente a gamma di T2, poi abbiamo un altro punto ancora, supponiamo qui, corrispondente a gamma di T3, e infine abbiamo il nostro punto gamma di B. Allora, noi chiameremo poligonale inscritta alla nostra curva gamma l'unione di questi segmenti, il segmento che va da gamma di A a gamma di T1, poi quello che va da gamma di T1 a gamma di T2, poi quello che congiunge gamma di T2 con gamma di T3, e poi quello che congiunge gamma di T3, in questo caso con gamma di B. Questa sarà una poligonale inscritta, con un numero finito di vertici, quindi inscritta alla nostra curva gamma. La lunghezza della poligonale P, evidentemente conosciamo quanto sono le lunghezze dei segmenti, è data dalla somma con K che va da 1 a N, dei moduli o delle norme di gamma di TK meno gamma di TK meno 1. i due punti distano esattamente di quello che i due punti gamma TK e gamma TK meno 1 distano fra di loro esattamente del modulo o lunghezza o norma di gamma di TK meno gamma di TK meno 1. La somma di tutte queste lunghezze dà la lunghezza della poligonale. Per esempio, nel caso M uguale a 3, gamma di TK meno gamma di TK meno 1 si esprime come la radice quadrata delle somme con I che va da 1 a 3 di X con I calcolato in TK meno X con I calcolato in TK meno 1, il tutto al quadrato, evidentemente. Diremo lunghezza della curva gamma, l'estremo superiore delle lunghezze delle poligonali iscritte alla curva, se, alla curva stessa, se tale estremo superiore è finito. In tale caso la curva si dirà anche rettificabile. E quindi, per definizione, ammesso che l'estremo superiore delle lunghezze di P, con P dedotta da una decomposizione delta dell'intervallo I, sia finito, diremo lunghezza di gamma l'estremo superiore delle poligonali iscritte. Qui è dato, è fatto in una maniera forse più piacevole, l'esempio di una curva, vedete, una specie di spirale che si allarga sempre di più, cioè un'elica spiraleggiante, e qui, questa è disegnata con vari colori che sfumano dal giallino fino al blu, la nostra curva, mentre quella segnata in rosso risulta essere la poligonale, una poligonale iscritta alla curva, come avevamo già visto in precedenza. Può accadere che la lunghezza di una curva sia più infinito, cioè che l'estremo superiore delle lunghezze delle poligonali iscritte sia più infinito, anche se le curve hanno un sostegno limitato in R alla M, cioè l'insieme gamma di I può essere limitato in R alla M, quindi contenuto in un rettangolo, in un parallelepipedo, a seconda che M sia uguale a 2 o 3, ma la lunghezza della curva gamma può essere ugualmente infinito. Se noi definiamo y di t la funzione che vale 0 se t è uguale a 0 e t per seno di 1 su t, se t è diverso da 0 nell'intervallo 0-1, quindi se t è maggiore di 0 e minore uguale di 1, allora la curva gamma di t che ha per componenti, prima componente x di t uguale a t, seconda componente y di t, la funzione che abbiamo appena definito, è un esempio nel quale la lunghezza di gamma è più infinito. Il grafico che adesso vi mostro in qualche modo vi permette di capire, non è difficile dimostrare che effettivamente la lunghezza di quella curva è infinita, l'idea è questa, si tratta della funzione seno di 1 su t, la quale quando t si avvicina a 0 fa infinite oscillazioni come vedete, moltiplicata per t che modula quindi le ampiezze di queste oscillazioni. Ebbene si vede che la somma delle lunghezze diciamo delle prime n oscillazioni a partire dal punto t uguale a 2 su pi greco, per esempio a partire dal punto t uguale a 2 su pi greco prendiamo le prime n oscillazioni. Ebbene queste hanno una somma che è del tipo somme di 2 più di 2 fratto 2, più 2 fratto 3, più 2 fratto 4, fino a 2 fratto n. Ebbene si dimostra abbastanza facilmente che quando n tende all'infinito la somma di tutte queste quantità, dei reciproci, cioè dei numeri naturali, risulta essere infinita. Sapete infatti che grosso modo questa è una ridotta di una serie armonica e sappiamo che la serie armonica diverge si appure lentamente. Oh, naturalmente non è che questa rappresenti la lunghezza, ma questa si dimostra abbastanza facilmente e rappresenta una limitazione inferiore delle lunghezze delle poligonali inscritte a questa curva e quindi possiamo concludere che l'estremo superiore delle lunghezze delle poligonali inscritte a questa curva è senz'altro più infinito. Questa curva, come era scritto nel titolo della diapositiva, si suole chiamare il seno del topologo, cioè questa funzione seno con infinite oscillazioni si suole chiamare il seno del topologo. Si può dimostrare, in base alla definizione di lunghezza di curva che abbiamo dato, che se gamma è la somma di due archi consecutivi, cioè è data dall'unione dei due archi consecutivi e in generale per indicare che abbiamo la riunione dei due archi consecutivi, indichiamo questa riunione come gamma 1 più gamma 2, allora se gamma è la curva gamma 1 seguita dalla curva gamma 2 e quindi ottenuto, come dice qua, dall'unione dei due archi consecutivi, gamma 1 e gamma 2, allora la lunghezza di gamma è uguale alla lunghezza di gamma 1 più la lunghezza di gamma 2, ammesso che gamma 1 e gamma 2 siano rettificabili. Allora cosa si potrebbe dire in maniera più precisa? Se gamma 1 e gamma 2 sono rettificabili e sono archi consecutivi, quindi anche la curva gamma unione dei due archi consecutivi è rettificabile e ha per lunghezza la somma delle lunghezze. Si vede anche che la lunghezza non dipende dal particolare tipo di rappresentazione parametrica e naturalmente tutte queste sono verifiche relativamente semplici, ma un pochino faticose che porterebbero via del tempo. Per trattare in maniera precisa il problema della lunghezza delle curve, dove adesso andremo e diciamo pure è in generale la nozione di integrale di funzione e valori vettoriali, converrà a ricordare che l'integrale di Riemann si può anche rappresentare come limite inteso in un senso opportuno di somme che chiameremo somme di Riemann, essendo appunto la nozione di limite intesa in una maniera opportuna. Precisamente accanto alle somme integrali inferiori e superiori che abbiamo introdotto qualche lezione fa parlando di integrale di Riemann, si possono considerare le somme che diremo di Riemann del tipo somme su alfa di f con alfa misura di i con alfa, dove f con alfa è contenuto tra l con alfa, tra l piccolo con alfa e l maiuscolo con alfa, cioè tra l'estremo inferiore e l'estremo superiore dei valori della funzione nell'intervallo i con alfa. Vi ricordo che alfa è un multiindice, cioè sta al posto di i se siamo nel caso di una dimensione, di i e j se siamo nel caso di due dimensioni, di i j e k se siamo nel caso di tre dimensioni. Si può dimostrare che una funzione f definita su i e valori in R è integrabile secondo Riemann se e solo se accade che per ogni epsino maggiore di zero esiste un numero ρ maggiore di zero tale che se il diametro di delta è minore di ρ allora il valore assoluto dell'integrale è steso a i di f in di m meno le somme in alfa di f alfa misura di i con alfa il valore assoluto ripeto è minore di epsino. Allora questo va inteso in maniera opportuna. Che cosa significa questo fatto dal momento che abbiamo detto se e solo se? Significa che se esiste l'integrale di Riemann nel senso di elemento di separazione di somme inferiori e superiori allora si vede che vale questa proprietà cioè che dato un numero epsino maggiore di zero troviamo un numero ρ maggiore di zero tale che se il diametro della decomposizione delta è minore di ρ però qualunque sia f alfa contenuto tra l alfa e le piccole alfa e le grande alfa compreso tra le piccole alfa e le grande alfa il valore assoluto della differenza tra l'integrale di f in di m e le somme di f alfa mi alfa cioè delle somme di rima è minore di epsino quindi se f è integrabile si può anche ottenere come limite delle somme di rima intese nel senso che abbiamo qui specificato viceversa si può dimostrare questo supponiamo che date le somme di Riemann esista un qualche numero chiamiamolo h per esempio che ha questa proprietà che per ogni epsino maggiore di zero esiste un ρ maggiore di zero tale che se il diametro di delta è minore di ρ allora il valore assoluto di questo numero h meno le somme di Riemann somme in alfa di f alfa misura di alfa è minore di epsino allora questo numero h ha tutto il diritto di chiamarsi l'integrale di Riemann cioè si scopre che la funzione f è integrabile secondo Riemann è che quel numero h che abbiamo trovato si chiama integrale steso a i di f in dm l'integrale di Riemann il fatto che abbiamo ora detto si esprime dicendo che il limite per il diametro di delta che tende a zero delle somme di Riemann somme in alfa di f alfa misura di i alfa è uguale all'integrale steso a i di f in dm addirittura si può dimostrare un risultato più importante più generale che ci sarà utile per esempio quando andremo a calcolare la lunghezza degli archi di curva che sono generalmente regolari il risultato è il seguente supponiamo che in corrispondenza a ogni multi indice alfa sia dato un numero epsilon con alfa in modo tale da essere uniformemente limitato il che significa esattamente questo dato comunque un numero epsilon maggiore di zero esiste un numero rho maggiore di zero tale che se il diametro di delta è minore di rho allora il valore assoluto di epsilon alfa è minore di epsilon allora risulta non solo che il limite delle somme di Riemann tende all'integrale steso a i di f in dm all'integrale di Riemann ma risulta anche che il limite per il diametro di delta che tende a zero delle somme di Riemann chiamiamole alterate cioè somme su alfa di f alfa più epsilon con alfa moltiplicato alla misura di alfa è uguale all'integrale steso a i di f in dm quindi non solo le somme di f alfa e mi con alfa tendono all'integrale di Riemann della funzione f su dm ma anche quelle che otteniamo alterando di un poco epsilon con i valori f con alfa di un poco purché sia in maniera controllata in maniera che uniformemente tenda a zero questo risultato si chiama il principio di Duhamel abbiamo allora il seguente teorema teorema di rettificazione delle curve regolari per curve regolari a tratti o generalmente regolari vedremo subito dopo come ci si può comportare sia gamma definita sull'intervallo AB a valori in R alla M una curva regolare allora la lunghezza della curva gamma è data dall'integrale tra e B di gamma primo di T del modulo di gamma primo di T in DT vediamo come si fa a dimostrare questo fatto ogni singolo lato della nostra poligonale è la lunghezza di il modulo di gamma di Tk meno gamma di Tk meno 1 mettiamoci nel caso m uguale a 3 per essere specifici questo vuol dire radice quadrata delle somme con i che va da 1 a 3 di x con i calcolato in Tk meno x con i calcolato in Tk meno 1 il tutto elevato al quadrato quindi tutte queste queste differenze ora noi sappiamo che e andiamo alla lavagna per poter spiegare meglio la questione noi sappiamo che x con 1 di Tk andiamo a prendere gli contributi 1 a 1 meno x con 1 di Tk meno 1 così sarà più chiaro quello che dirò in base al teorema di Lagrange visto che la funzione x di T è una funzione derivabile ed è continua è uguale a continua anche negli estremi derivabili nei punti interni è uguale a x primo con 1 calcolato in un certo punto tau 1 diciamo tau 1k perché dipende da Tk e da Tk meno 1 per T con K meno T con K meno 1 è uguale a x primo 2 di tau 2k per Tk meno Tk meno 1 e x con 3 di Tk meno x con 3 di Tk meno 1 è uguale a x primo 3 di tau 3k per Tk meno Tk meno 1 allora la lunghezza del lato sarà la radice quadrata di x primo x primo 1 calcolato in tau 1k il tutto al quadrato più x primo 2 calcolato in tau 2k al quadrato più x primo 3 in tau 3k al quadrato il tutto per sarebbe sotto il segno di radice Tk meno Tk meno 1 al quadrato possiamo portarlo fuori Tk è maggiore di Tk meno 1 quindi esportiamo dalla radice semplicemente Tk meno Tk meno 1 allora vedete le derivate prime di x1 x2 x3 sono calcolate in tre punti dell'intervallo Tk meno 1 Tk che sono in generale tre punti diversi fra di loro e sono qua per l'appunto indicati in questa maniera x primo con i di tau ik al quadrato per Tk meno Tk meno 1 al quadrato lì abbiamo già portato fuori dal segno di radice Tk meno Tk meno 1 ma questi punti siccome la funzione x primo di T è una funzione continua come sappiamo x primo 1 di T è continua x primo 2 di T è continua x primo 3 è continua questi questi valori potremmo per esempio prendere in considerazione il valore che essi hanno nel punto Tk e dire che questo è uguale alla radice quadrata di x primo 1 al quadrato calcolato in Tk più x primo 2 al quadrato calcolato nello stesso punto Tk qui abbiamo tre punti diversi che dà fastidio più x primo 3 al quadrato calcolato in Tk tutti quanti nello stesso punto dunque più un certo y con k per Tk meno Tk meno 1 per Tk per Tk meno Tk meno 1 infatti essendo che le funzioni x primo di x primo di T x primo x primo 1 di T x primo 2 di T x primo 3 di T sono continue il loro valore in un punto che si discosta poco da Tk sarà circa il valore che hanno nel punto Tk più un qualche cosa yk che si può dimostrare che tende uniformemente a 0 quando il diametro della suddivisione tende a 0 e quindi applicando il teorema di questo fatto l'abbiamo ottenuto applicando come abbiamo detto il teorema di Lagrange su ogni intervallo Tk meno 1 Tk e poi si può vedere che gli y ik tendono a 0 quando il diametro di delta tende a 0 uniformemente per il fatto che le funzioni x primo 1 x primo 2 e x primo 3 sono uniformemente continue essendo continue su un intervallo chiuso e limitato sono uniformemente continue sullo stesso intervallo e quindi possiamo applicare il principio di Duhamel e dire che il limite per il diametro di delta che tende a 0 delle somme con k che vanno con le somme con k che va da 1 a n delle radici quadrate con i che va da 1 a 3 di x primo con i in Tk al quadrato più y ik per Tk meno Tk meno 1 e il limite di questa espressione è proprio l'integrale tra a e b di gamma primo di t inditi ma noi abbiamo anche che le lunghezze si può dimostrare abbastanza facilmente che le lunghezze di gamma sono sempre minori uguali di questo numero e quindi possiamo concludere addirittura che questo numero è effettivamente l'estremo superiore delle lunghezze delle poligonali e quindi è effettivamente la lunghezza della nostra curva una formula analoga vale come vi avevo preannunciato per le curve generalmente regolari perché se la curva è generalmente regolare vuol dire che sarà regolare sull'intervallo che va da t0 a t1 e quindi su quell'intervallo sarà data da una formula di quel tipo poi su t1 e t2 sarà data un'altra formula di quel tipo e sommando i due si otterrà una stessa formula dello stesso tipo sull'intervallo unione quindi lo stesso si può sostanzialmente dire per le curve generalmente regolari andiamo a vedere qualche esempio molto semplice supponiamo di avere a che fare con un arco di circonferenza x si chiama r coseno di t y r uguale a r seno di t la lunghezza dell'arco di circonferenza è l'integrale tra 0 e un certo valore di z della radice quadrata di x primo al quadrato più y primo al quadrato in du di t e x primo al quadrato allora x primo che cos'è? meno r seno seno di t y primo è r coseno di t la somma dei quadrati farà x primo al quadrato più y primo al quadrato farà r quadrato che moltiplica sen quadrato di t più sto parlando delle derivate non delle funzioni più r quadrato coseno al quadrato di t e coseno al quadrato più sen quadrato fa 1 quindi verrà la radice quadrata di r quadrato cioè r e quindi resterà semplicemente r z dove z è un numero compreso tra 0 e t l'equazione dell'arco di elica cilindrica di equazioni x uguale la lunghezza dell'arco di elica cilindrica di equazioni x uguale a r coseno di t y uguale a r sen t e z uguale a p t quindi l'elica cilindrica si proietta su una circonferenza di raggio r sul piano x y e poi aumenta al variare di t di un certo assegnato passo questo valore p ogni 2 pi greco e allora s di t sarà uguale l'integrale tra 0 e t di x primo al quadrato di u più y primo al quadrato di u più z primo al quadrato di u sotto radice quadrata in du che è la lunghezza il gamma primo di t ma facilmente si calcola che viene fuori r quadrato la radice quadrata di r quadrato più p quadrato che non dipende da u e quindi l'integrale tra 0 e t di radice di r quadrato più p quadrato in du sarebbe meglio scrivere qua è comunque uguale alla radice di r quadrato più p quadrato moltiplicato per t quindi anche questa curva è una curva facilmente rettificabile se una curva è data in forma cartesiana cioè è data come grafico di una funzione y uguale f di x dove f e f primo sono continue l'arco di curva che è compreso tra il punto x uguale a e il punto generico x è dato dall'integrale tra a e x della radice quadrata di 1 più f primo di t al quadrato in di t la lunghezza d'arco è un parametro estremamente conveniente per la rappresentazione delle curve qui non possiamo fare una teoria completa ma risulta essere ne diamo semplicemente una prima visione infatti abbiamo che di s su di t in base a quello che abbiamo visto in precedenza abbiamo visto s di t e l'integrale tra diciamo a e t della radice quadrata di x primo di u al quadrato più y primo di u al quadrato più z primo di u al quadrato in di u e quindi di s su di t sarà la radice quadrata di x primo di t al quadrato più y primo di t al quadrato più z primo di t al quadrato allora se andiamo a calcolare di x rispetto la derivata di x rispetto alla lunghezza d'arco di x su di s questa sarà data da di x su di s per di t su di s e di t su di s sarà il reciproco della radice quadrata, di questa radice quadrata di x prima al quadrato più y prima al quadrato più z prima al quadrato. Di y su di s sarà di y su di t per di t su di s, di t su di s è 1 fratto quell'espressione che abbiamo scritto qua e di z su di s sarà data di z su di t per di t su di s, di t su di s è il reciproco di questa quantità. E allora se noi facciamo di x su di s al quadrato più di y su di s al quadrato più di z su di s al quadrato come è scritto nella prossima diapositiva, cioè se calcoliamo x primo di s al quadrato più y primo di s al quadrato più z primo di s al quadrato, vediamo che questo viene x primo di t al quadrato più y primo di t al quadrato più z primo di t al quadrato diviso sempre il quadrato di x primo al quadrato di t più y primo al quadrato di t più z primo al quadrato di t e quindi è uguale a 1. Quindi questo cosa significa? Che se noi rappresentiamo una curva per mezzo del suo, per mezzo del parametro lunghezza d'arco, gamma primo di s risulta essere un versore tangente alla curva nel punto di coordinata di lunghezza s, cioè gamma primo di s è un vettore di lunghezza 1, quindi è un versore e siccome è sempre un vettore tangente, ogni gamma primo di t è un vettore tangente, risulterà in questo caso un versore tangente come abbiamo detto. Veniamo ora alla definizione di quelli che noi chiamiamo integrali curvilini. Supponiamo che sia data una curva gamma definita sull'intervallo i uguale a b valori in R alla m e che sia una curva regolare, sia inoltre f una funzione continua definita su un aperto di R alla m, funzione continua definita sull'aperto a di R alla m che contiene il sostegno della curva gamma, cioè f contiene gamma di i maiuscolo, cioè contiene tutti i punti che vengono raggiunti dalla curva gamma. Inoltre su i si è data anche una certa funzione w di t che si chiamerà funzione peso e che sia funzione e che supporremo sia funzione di classe c1, c1 sull'intervallo i, cioè w abbia sia funzione continua con derivata prima continua. Allora noi definiremo l'integrale esteso a gamma di f in dvw nel peso dvw come l'integrale tra a e b di f calcolato lungo i punti della curva, cioè f di x di t, y di t e z di t moltiplicato per vw' di t in dt. Quindi questo integrale esteso a gamma di f in dvw si dirà, si leggerà in questa maniera, integrale curvilineo esteso alla curva gamma di f rispetto al peso w. In particolare avremo questi casi particolari. Integrale esteso a gamma di f in ds che cosa significa? Vuol dire se la curva è parametrata sull'intervallo a b, vuol dire integrale tra a e b di f calcolato in x di t, y di t e z di t per ds e ds, sappiamo che è la lunghezza del modulo di gamma primo di t, cioè la lunghezza di gamma primo di t, ossia il modulo di gamma primo di t in dt, cioè al posto di ds c'è modulo di gamma primo di t o norma di gamma primo di t in dt. L'integrale esteso a gamma di f in dx sarà uguale a f di x di t per definizione, f di integrale tra a e b di f di x di t, y di t e z di t per x primo di t in dt, cioè il dx calcolato lungo la curva. Siccome x si chiama x di t, dx si chiamerà x primo di t in dt. Analoghe espressioni varranno per dy e di z. Definiremo poi integrale esteso a gamma di f1 di x più f2 di y più f3 di z come l'integrale esteso a gamma di f1 di x in base alla definizione che abbiamo dato in precedenza, cioè f1 di x di t, y di t, z di t per x primo di t in dt più integrale esteso a gamma di f2 in dy più integrale esteso a gamma di f3 in dz, dove noi possiamo pensare che f1, f2 e f3 siano le componenti per esempio di un qualche vettore. Definiremo poi integrale esteso a gamma del prodotto scalare di f e di dy gamma come l'integrale tra a e b del prodotto scalare di f di gamma di t e f avrà componenti per esempio f1, f2 e f3 per gamma primo di t che avrà componenti x primo di t, y non primo di t, z primo di t in dt. Questa è un'altra definizione dove come vi dicevo f ha le componenti f1, f2 e f3. L'integrale di linea integrale esteso a gamma di f in dy gamma, sappiamo che ha un'interpretazione fisica importante, è uguale all'integrale tra a e b di f di gamma di t, gamma primo di t in dt, ci permette di calcolare il lavoro di una forza f lungo un cammino gamma. Invece un integrale di questo tipo, integrale esteso a gamma di f in ds, cioè integrale tra a e b di f di x di t, y di t, z di t per gamma primo di t in dt, ci permetterà di calcolare l'area di un cilindro delimitata dalla curva gamma che sta sul piano x, y e dalla superficie, questa disegnata in azzurino, delineata in azzurino, z uguale a f di x, y e quindi l'area che è qui messa in evidenza è l'area laterale, diciamo, del cilindro individuato dalla curva gamma e da questa superficie z uguale a f di x, y. Si verifica in maniera molto semplice che l'integrale curvilineo curvilineo risulta essere lineare rispetto alla funzione f e al peso w, cioè se al posto della funzione f mettiamo la combinazione lineare di due funzioni, l'integrale è uguale alla combinazione lineare degli integrali delle singole funzioni e lo stesso avviene se al posto di w mettiamo alfa w1 più beta w1. Questo integrale si spacca in alfa integrale esteso a gamma di f di w1 più beta integrale esteso a gamma di f w2. L'integrale cambia di segno se invertiamo il verso del cammino e risulta essere additivo su archi consecutivi, cioè l'integrale esteso a gamma 1 più gamma 2 è uguale all'integrale esteso a gamma 1 più l'integrale esteso a gamma 2. Come semplici esempi si possono vedere questi, calcolare l'area del cilindro delimitata da f di x, y uguale a y quadrato e dalla superficie x uguale a coseno di t, y uguale a seno di t con t compreso tra pi greco e 2 pi greco e fra parentesi trovate la risposta a questo esercizio. Se lo fate questo esercizio è molto semplice, si tratta di calcolare sostanzialmente sen quadrato di t incrementato per ds, cioè per 1 sostanzialmente in dt e quindi trovate facilmente che il risultato è pi greco e mezzi. Calcolare il lavoro, un altro esercizio interessante, calcolare il lavoro esteso a gamma di f in d gamma, questo qua, dove f di x, y è tutta questa espressione estremamente complicata e gamma di t è una certa circonferenza di equazione 2 più seno di t è t. Vi dico subito che il risultato è 0, provate a calcolarlo, ma il calcolo esplicito non è il modo giusto per calcolare quell'integrale. Impareremo la prossima lezione o una delle prossime lezioni a capire che quell'integrale vale 0 in maniera indipendente dall'aver fatto effettivamente il calcolo. In questa maniera abbiamo concluso questa prima lezione dedicata a curve integrali curviline in R2 e in R3. vi ringrazio l'attenzione, vi invito a consultare come al solito e a visitare il sito internet del Consorzio Nettuno dove troverete suggerimenti, esercizi e ulteriori considerazioni. Grazie e alle prossime.